I cremonesi saranno chiamati di nuovo al voto a maggio per le amministrative e la politica locale è in pieno fermento. Per ora i candidati sicuri alla poltrona di sindaco di Cremona sono Alessandro Zagni per la Lega e la lista civica Cremona Libera, Lucia Lanfredi per il Movimento 5 Stelle, mentre nel centro-destra deve ancora sciogliere le riserve su una possibile ricandidatura Oreste Perri. Con le primarie del 23 febbraio il centro-sinistra sceglierà il suo candidato, tra Gianluca Galimberti del Movimento Civico Fare Nuova la Città appoggiato dal PD, Rosita Viola di Sinistra Ecologia e Libertà e Paolo Carletti dei Socialisti. In vista dell'appuntamento i tre si muovono e puntano soprattutto sul confronto diretto con i cremonesi. La Viola ha incominciato ieri dal quartiere Boschetto gli incontri con i cittadini, in programma anche venerdì e domenica. Anche Galimberti continua il suo tour in città mentre si organizza con il contributo dei collaboratori volontari di Fare Nuova la Città. Carletti prepara il suo programma e in una nota nel frattempo punta il dito sulla mancata progettualità del comune in vista di Expo, unica, concreta e tangibile occasione per il rilancio di Cremona. I tre candidati del centro-sinistra si confronteranno per la prima volta questa sera su Cremona 1 nel Talk La Piazza in diretta dalle 21. In studio con Giovanni Palisto anche tre giornalisti, Simone Bacchetta di Cremona 1, Gilberto Bazoli della provincia e Giuliana Biagi per cremonaoggi.it. I tre candidati risponderanno alle domande sui programmi e sui temi della città. Nel corso della puntata, come sempre, i telespettatori potranno intervenire nel dibattito con domande e spunti di confronto, inviando un sms al numero 342 599 79 69.